che deve andare? aiuto vamo sollele bravo bravo a Toscana oia come è stato bene sta affinando aica parla a te mare stai già registrando Andrea e togli l'audio qui? no ronco bello bello e c'è un volante e c'è già da rubulare oseggio ci ha portato apri mi larga questa vabbè fai larga con lì guarda guarda il posto in mano stai stai a fare in palica guarda 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 stai in modo stai in letto stai in luce e le curve sono così stai in luce stai in luce stai in luce stai in luce e non c'è ma un giro guarda stai in luce Sì, c'è acqua. stop aspetti mi la fa saltarla questa ora è fatto non era già Luigi ahhh no, prima lì il tuccio tanto André con le giochi che devo ottenere la pia Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Dai bimbi Non fa male fossa a sinistra fossa burrone pietra fossa 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 fossa